I dati sugli stipendi, sulle remunerazioni, sui costi dell'intero sistema RAI devono essere pubblicati in base alla legge, rispettando la legge e rispondendo alla grande domanda di trasparenza che viene dall'opinione pubblica. Spero che lei in questa sede, signor Sottosegretario, non ne dubito, dirà una parola definitiva al riguardo. Grazie ancora. L'On. Brunetta chiede di conoscere, come ha motivatamente esposto, quale misure intendono assumere i ministri interpellati e anche la Presidenza e il Consiglio, al fine di dare piena e immediata attuazione alle previsioni normative in tema di trasparenza che riguardano la RAI, in particolare alla lucera della recente approvazione della disposizione che è stata diffusamente richiamata, disposizione di legge. Come è noto, tale norma, quella contenuta nella legge di conversione del Decreto Legge 101 del 31 agosto 2013, ha integralmente sostituito, a decorre dal 1 gennaio 2014, l'articolo 60,3 del Decreto Legislativo del 165 del 2001, che nella precedente formulazione prevedeva che gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità, nonché gli enti e le aziende di cui è l'articolo 70,4 sono tenuto a comunicare alla Presidenza e Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero del Tesoro del bilancio della programmazione economica il costo annuo del personale comunque utilizzato in conformità alle procedure definite dal MEF. L'intervento operato dal Decreto Legge 101 del 2013, come diffusamente illustrato dal Presidente Brunetta, integra in primo luogo l'ambito soggettivo di riferimento del suddetto articolo 60, estendendo la platea dei soggetti tenuti al rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto anche alle società non quotate, partecipate direttamente o indiettivamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui è l'articolo 1,3 della legge 196 del 2009, diverse da quelle emittenti, strumenti finanziari, quotati in mercati regolamentati e dalle società, dalle stesse controllate e dalle società concessionari del servizio pubblico generale, radio televisivo. Il detto intervento opera inoltre sul contenuto informativo dell'obbligo stesso, andando a specificare che il costo annuo del personale comunque utilizzato ed oggetto alla comunicazione deve ritenersi riferito ai singoli rapporti di lavoro dipendenti autonomi, come abbiamo ascoltato dall'onorevole interpellante. Tali interventi vanno inquadrati all'interno del processo di estensione alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, da partecipazione pubblica, di una serie di obbligo e vincoli in materia di finanza pubblica e trasparenza, la cui introduzione ha avuto luogo a partire dal Decreto Legge 112 del 2008 ed è successivamente proseguita con ulteriori misure introdotte con il Decreto Legge 78 del 2010 e il Decreto Legge 95 del 2012. Successivamente, con i commi 39 e 40 dell'articolo unico della legge 190 del 2012, è stato previsto, oltre che per le amministrazioni pubbliche di cui l'articolo 1,1 del Decreto Legislativo 165 del 2001, anche per le aziende della società partecipato e degli altri enti pubblici, l'obbligo di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36,3 del medesimo Decreto Legislativo 165 del 2001, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. In tal modo, il legislatore ha di fatto esteso anche alle aziende e alle società partecipate dallo Stato e degli altri enti pubblici il monitoraggio e i relativi obblighi informativi previsti dal citato articolo 36. In virtù di tali disposizioni, pertanto, anche la RAI, in quanto società concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, è tenuta a comunicare alla Presidenza e al Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Funzione Pubblica e al MEF, il costo annuo del personale comunque utilizzato, con riferimento ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomi, in conformità a specifiche procedure definite di intesa con i predetti di Casteri. A tale riguardo, relativamente alla concreta attuazione della disposizione di cui l'articolo 2,11 del Decreto-Legge 101 del 2013, faccio presente che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha già predisposto una prima bozza di documento di lavoro per la definizione delle procedure di acquisizione dei dati utili a soddisfare le necessità informative previste dalla norma, che peraltro riguarda una pluralità di soggetti. Sulla base di tale bozza di documento, nella giornata di ieri, 9 gennaio 2014, è stata svolta la prima riunione di coordinamento tra i rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza e Consiglio, con il quale è stato avviato il percorso attuativo della norma e verificare le modalità di rilevazione più idonee all'interno del suddetto sistema conoscitivo, che comunque, con riferimento alla RAI, in ordine alla quale la norma prescrive l'acquisizione di informazioni di maggior dettaglio, come dicevo, costo annuo dei singoli rapporti di lavoro, richiederà una specifica modalità di trattazione. Successivamente, per la piena operatività della norma, si provvederà ad implementare il sistema informativo SICO, sistema conoscitivo del personale dipendente dell'amministrazione pubblica, ed a svolgere tutte le attività propedeutiche all'avvio della rilevazione, che sarà realizzato senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In conclusione, la disciplina normativa, che è stata puntualmente richiamata, sarà attuata, come è doveroso fare, entro i tempi tecnici strettamente necessari e con le procedure che sono state richiamate. Grazie. Grazie. Grazie.